Ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lele King TV Mamma mia ragazzi, quest'oggi che video! Come vedete qui ci sono in cerchio veramente tante bustine, anche storiche ragazzi Abbiamo, che ne so, iniziamo da qui Euro 2016, Euro 2008, Euro 2012 Champions of Europe 2005 Sudafrica 2010 Calciatori 2004-2005 Champions League 2011-2012 Calciatori 2014-2015 Champions League 2007-2008 Se non sbaglio 2006-2007, adesso non mi ricordo Calciatori 2021-2022 FIFA 365-2022 E la Liga 2021-2022 Cosa faremo quest'oggi? La ruota della fortuna ragazzi Spacchetteremo 10 pacchetti Aiutandoci con la ruota della fortuna Quindi sarà la ruota a decidere quale pacchetto apriremo Ci sono molte volte ripetute i calciatori 2021-2022 Perché sono quelle di cui ho più bustine Di cui voglio portare più avanti lo spacchettamento Però andiamo a vedere che cosa uscirà fuori Giriamo per la prima volta la ruota Primo pacchetto da aprire è Tataaa Euro 2008 Euro 2008 Primo pacchetto da aprire Chissà cosa uscirà fuori da questa bustina Di parecchi anni fa Vediamo cosa esce fuori C'è Marcos Senna Della Spagna Makelele Della Francia Uno stadio Di Euro 2008 Kerzakov Della Russia E Cap de Villa Cap de Villa Per quanto riguarda la Spagna Pacchetto di Calciatori 2021-2022 Vediamo cosa esce fuori Tre giocatori Cittadella La formazione dell'Ellas Verona Boga del Sassuolo Che è passato poi all'Atalanta Enrique del Sassuolo Di nuovo E Ampadu Ampadu Del Venezia Classe 2000 Andiamo a girare ancora la ruota della fortuna Vediamo cosa esce fuori Il terzo pacchetto Andiamo a spacchettare Qua c'è roba interessante Vediamo se si è fermato lì Calciatori 2004-2005 Ottimo ragazzi Ottimo Eccoli qui Bussine Calciatori 2004-2005 Cosa uscirà fuori Lo stemma della Nocerina del Potenza Di Loreto e Milanese del Perugia Burdisso Con la maglia dell'Inter Poi passerà alla Roma Burdisso Poi Pivotto e di Venanzio Del Modena Contini del Parma Filippo Antonelli Agomeri E Alessandro Monticciolo Dell'Ascoli Poi abbiamo Galante Ecco qui Galante E Russo e Croce del Pescara Questo è quello uscito fuori Dalla bustina 2004-2005 Andiamo avanti Vediamo cosa esce fuori adesso Giriamo di nuovo la ruota Champions League 2007 Eccola Eccola a voi servita ragazzi La bustina Champions League 2007 Vediamo cosa esce fuori Quarta bustina ragazzi Qui può uscire veramente di tutto ragazzi Fuori da queste bustine Vediamo Oh mamma mia Quanto è bella sta figurina Roberto Carlos Con la maglia del Ferner Base Della Turchia Mamma mia Bene Nunez Con la maglia dell'Olimpiakos Maignan E' un altro Maignan Non il portiere Uh Shevchenko Shevchenko Con la maglia del Chelsea Mamma mia ragazzi E Nunez Quell'abbiamo detto prima Non no Non mi ricordo Roberto Carlos E' un altro giro di ruota Stiamo a quattro bustine Quindi questa è la quinta bustina Vediamo cosa esce fuori Dalla ruota della fortuna Spero che questo format vi piace Insomma Vediamo cosa esce fuori Dalla ruota della fortuna Sud Africa 2010 Dai ragazzi Mamma mia Che stiamo tirando fuori Qual è la vostra figurina preferita Ragazzi Fra quelle che avete visto Quest'oggi Fatemelo sapere Sono veramente curioso Di leggere I vostri commenti Troviamo Lo stemma dell'Honduras Yakin Romaric Tassa Balala E la formazione dell'Algeria Giriamo ancora la ruota Sesto pacchetto Sesto pacchetto Vediamo cosa esce fuori Champions League 1955-2005 E qui può uscire di tutto Ragazzi Qui c'è uscita la rookie C'è uscita la rookie Per quanto riguarda La Champions League di Messi Non so se l'avete visto Quel video Qui può uscire Veramente Qualcosa di Incredibile Per esempio Potrebbe uscire In Cristiano Ronaldo Anche lui rookie Per quanto riguarda La Champions Questa è la sesta bustina Baumann Porto Troviamo Soncaia Cafu Cafu con la maglia Del Milan Forse metto anche Questa all'asta Ragazzi Poi troviamo Questa figlia Del Porto E che si Con la maglia Del Liverpool Mamma mia ragazzi Anche Cafu Cioè Le mie preferite Adesso sono Cafu Ceveschenko E Roberto Carlos Vi ho detto tutto Vi ho detto tutto Andiamo con Allora quattro Ne abbiamo aperte Ne abbiamo aperte E sei Ne mancano quattro Quindi la settima Bustina Vediamo cosa uscirà fuori Come settima bustina Ad aprire Cosa uscirà fuori Come settima bustina Ad aprire Calciatori 2021-2022 Vai Apriamo un'altra bustina Calciatori 2021-2022 Ha portato veramente fortuna Con questo spacchettamento Monza Tre giocatori del Monza Tre del Lecce Gionber Della Sernitana Marusic Della Lazio E Malino Vischi Per quanto riguarda L'Atalanta Giriamo un'altra volta La ruota Per l'ottavo pacchetto Ottavo pacchetto Vediamo cosa possiamo aprire Come ottavo pacchetto Oh Un'altra bustina Champions League 1995-2005 Mamma mia ragazzi Queste bustine qui Sono tremende Sono tremende Perché si può trovare Ovviamente di tutto Ajax Chi è questo giocatore L'Ajax Trabelsi Poi troviamo L'Amoschi Della Francia Gomez Del PSV Vendoven Camoranesi Con la maglia Della Juventus E Postiga Giocatore del Porto Andiamo con il nono Pacchetto ragazzi Abbiamo quasi finito Questo video Mi dispiace Veramente tantissimo Perché mi sto divertendo E questo spacchettamento Spero anche voi Abbiamo iniziato un po' Piano piano Però poi ci siamo ripresi Cosa dobbiamo spacchettare Calciatori 2021-2022 Apriamo Calciatori 2021-2022 Per il nono pacchetto Tre giocatori del Vicenza Anguissa del Napoli Pulgar della Fiorentina Chabot della Samp E Manolas per il Napoli Che è andato via Ritornato in Grecia L'Olimpiakos Ultimo pacchetto Calciatori 2021-2022 Calciatori 2021-2022 Calciatori 2021-2022 Che sono quelle più probabili Che escano da questi Da questi spacchettamenti Troviamo Callon Del Genoa La formazione di calcio femminile Della Lazio Vaksimovic del Genoa Sturaro del Genoa E Vigna della Roma Ragazzi Le mie figurine preferite sono Cevchenko con Roberto Carlos E il mitico pendolino Cafu Che dov'è? Dove l'abbiamo messo? Il pendolino Cafu Dovrebbe essere qui Tra queste figurine qui Dove l'abbiamo messo? Cafu Eccolo qui Il pendolino Cafu Con la maglia del Milan Mamma mia ragazzi Ma anche Anche lui non è male Però Cafu E Cafu Il pendolino Cafu E il pendolino Cafu Io ragazzi vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti